Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video abbiamo le LOL Surprise si che bello le LOL Surprise Glam Glitter si che bello mi piacciono tantissimo allora per questa stupenda iniziativa di oggi di apertura da LOL Surprise ci portiamo, c'è il pubblico e ci portiamo ci hanno portate la nostra la mitica Sugar però tu non dovevi essere presentata per prima allora aspettate, rifacciamo da capo perché la nostra che deve essere presentata per prima è PASTEL UNICA scusatemi ma PASTEL è PASTEL nessuno può prendere il posto di PASTEL è vero, si è vero, ciao scusami però siccome è subentrata Sugar no? che ha diciamo un certo peso perché comunque è una bambola fantastica niente a togliere a te PASTEL però capisci che Sugar l'ego che c'è? scusate l'ego che ogni tanto interviene e che lui si lamenta e niente capito PASTEL no? scusami ma vabbè ciao vabbè dopo tutto ti arrivo a presto Maria Antonia Stasi ciao che ti è successo la coccia oggi? ciao sto peso dei capelli ti comincia a pesare che non stai più tanto vabbè poi e stavo dicendo ci siamo portati Sugar la nostra Sugar è bellissima ragazzi l'amo tra l'altro mi avete scritto in 700.000 Tamara è l'unica che cambia colore Tamara puoi farle cambiare colore? assolutamente sì ragazzi io vi ringrazio anche di avermelo detto voi sapete sempre tutto non so come facciate ma sapete sempre tutto appena finiamo come si chiama la presentazione di tutti proveremo a metterla nell'acqua va bene andiamo avanti perché sennò il ghiaccio si scioglie allora ci siamo portati Alice sì ciao perché mi sono portata Alice perché vorrei trovare Alice mi sembra chiaro no? ciao da tanto che non ci si vede Alice e poi le nostre amate go 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 le madame sì ciao loro ci piacciono e ci sono sempre ci saranno sempre allora andiamo con la svestizione della nostra sugar sugar oh honey honey nanny nanny you are my candy bar and you get me what you do cioè non so se è veramente così la canzoncina però mi piace sugar oh honey honey dai allora qui abbiamo la nostra acqua con il nostro ghiaccio ragazzi è il momento della verità c'ho l'ansia sì un bel bagnetto nell'acqua oh 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 veramente no la coccia non cambia colore ma il corpo sì anche le guanciate sono diventate più rosa no vabbè fabulous già era fabulous prima ma lo è ancora di più fabulous l'acqua è ghiacciata come potete vedere ci sono i pezzi di ghiaccio che galleggiano oddio quanto sei bella sugar oddio c'è le alette no ragazzi ma cos'è no vabbè io questa questa è mitica ragazzi questa è mitica guardate c'è anche le alette le calze diventano più scure come se fosse abbronzata al mare capito vengono fuori infatti c'è il costumino il body e anche le gambe diventano più scure mamma quanto sei bella sugar ma quanto è bella si ci piace no 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 assolutamente ci piace tantissimo sugar che ve lo dico a fa che ve lo dico a fare bellissima ragazzi bellissima 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 si 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 beh ora è andato via tutto la sto asciugando ma ci piace veramente tanto sugar cioè secondo me scusate se ho mostrato tutto perché ho toccato la videocamera secondo me qui hanno proprio cioè hanno proprio top ecco sugar è il top ragazzi per adesso è il top del top ma la rivestiamo sugar nanana nanana quanto sei bella nanana 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 ne hai messo al contrario tamarinda eccoci qua no ragazzi sugar è fabulos va bene andiamo con il momento checklist allora momento checklist momento checklist io vorrei trovare una di queste due magari no tutte e due le vorrei vorrei kitty queen ed e queen perché sono rare che ve lo dico a fare le vogliamo poi sugar ce l'abbiamo è fantastica mi piacerebbe pure spicy sinceramente sinceramente mi piacerebbe pure lei coconut anche no grazie ci facciamo una bella x coconut anzi che ve lo dico a fare ora glielo facciamo proprio una bella x tac tac coconut non la vogliamo più capito pallina non la vogliamo più grazie allora coconut abbiamo fatto una bella x allora curchamp non la vogliamo però non ce l'ho se dovesse capitarmi vabbè diciamo che vabbè no vabbè ma ragazzi it baby no it baby la vogliamo assolutamente scherzi dj no neon no curious assolutamente si la vogliamo curious la vogliamo bibi mi piace il suo outfit per cui vogliamo anche lei e c di qui come si chiama lei aspetta fammi vedere come si chiama questa cherry scusatemi non vedevo la e cherry cherry anche no grazie allora andiamo con lo spacchettamento si madonna c'ho l'ansia ragazzi c'ho l'ansia andiamo con l'apertura stamattina abbiamo fatto un sacco di casino stamattina oddio già si vede aspetta però fammi togliere il primo strato e poi guardiamo l'indizio guardiamo l'indizio aspetta lights camera action oddio lights camera action è un altro diverso si 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 questo indizio ci piace ragazzi si 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 ci piace perché è diverso da sugar ed è diverso da coconut per cui ci piace ci piace andiamo avanti andiamo avanti con il secondo strato perché mi sconfinfera mi sconfinfera sta apertura stamattina non si vede ancora il colore della bolla oddio c'ho l'ansia ragazzi c'ho l'ansia i nostri adesivi eccoci qua si andiamo con l'apertura del terzo strato comunque questa carta diventa sempre più dura ragazzi eh no zitti che questa è l'unica un po' più leggera allora primo pacchettino la bolla è nera va bene va bene va bene Tamara va bene che è nera fa niente tanto te ne mancano tantissime andiamo avanti prima scartamento dentro i biberoni senza il tatto e via andiamo con il prossimo strato vediamo con il prossimo strato eccoci qua le scarpine oddio no ah si no pensavo che c'era una scarpa sola ragazzi sembrano degli stivaletti chi è che c'ha gli stivaletti qua insomma vede lei c'ha gli stivaletti lei non può essere perché e lei c'ha gli stivaletti tutti gli altri hanno scarpine però si sono proprio gli stivaletti ma vediamo dai ragazzi vediamo vediamo oddio l'ansia che cresce allora andiamo avanti con l'apertura il pacchettino si capisce niente di quello che c'è dentro bene apriamo e c'è la c'è la nostra lol con la checklist e oddio da qui si capisce tanto cos'è sta roba qua esagerata aspetta ma è possibile che dal tatto non si capisce niente no perché sembra un cerchietto esagerato sta male unica cosa è aprire sì ma non riesco proprio a capire che posso avere sto cerchietto no ti prego no ti prego non dirmi che è curious ma curious non ha gli stivali senti apriamo ste buste se no è inutile c'è ragione stai calma innanzitutto allora partiamo partiamo nel nostro biberon partiamo nel biberon oddio no ragazzi oddio oddio è curious non ci posso credere ragazzi azzurro nero sì c'è abbiamo strisce nere sì ci sono oddio abbiamo trovato coio no ragazzi no non ci posso credere andiamo con l'apertura andiamo con l'apertura delle scarpine a me sembra questi valetti questi scarpine no abbiamo trovato curiosa mia addio ma è curious o non è curious fammi capire ma se scarpe aspetta ma qui sono bianche o sono ciecata io ma sono bianche qua eh ma è lei ragazzi è lei è la checklist che è falsificata qua vediamo qui se ci sono bianche no vedi qua sono azzurrine sì è curioso oh mio oddio no ma ragazzi ma sono belle anche le scarpe sapire guardate quanto sono belle oh mio dio sì ho fatto così perché c'è una mosca bellissime no non ci posso credere allora ho fatto bene a portarmi curious ho fatto bene sì a portarmi curious allora apriamo ma questo non è da aprire adesso adesso è da aprire questo il vestitino di curious legò cosa stai facendo no ragazzi che cos'è no io non ho parole allora niente ragazzi questa è la mia serie preferita non ci sono non ci sono proprio discussioni cioè guardate sto vestito che cos'è è uno sbrilluccichio unico no vabbè non ho parole e le scarpe metalliche no vabbè io non ho parole ragazzi comunque questa è la mia legò ci hai rotto le balle stamattina vai a giocare cammina scusate stavo dicendo che è la mia serie in assoluto preferita anche di più delle altre glitter guardate il cerchietto è tutto glitterato no io ragazzi io rimango incantata davanti a sta serie dell'all glam glitter io rimango veramente senza parole cioè l'unica cosa che so dire oh mio dio meraviglia fabulous queste sono le parole che mi escono una fantasia proprio ma che ci devo fare io ma adesso andiamo all'apertura della lol cioè io non ho parole ragazzi sono proprio oh mio dio no ragazzi cioè no vabbè ma che cos'è no io aspetta che è un po' anch'io usata sta povera figlia c'è anche i guantini bianchi metallizzati ma i capelli biondo oro metallizzato con i pompon qua sopra sulla coccia glitterati in più glitter azzurri negli occhi ma ste calze che sono perfette metallizzate anche loro no no cioè io no allora cioè si fabulous 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 e basta queste sono le uniche parole che mi escono adesso la vestiamo la nostra alla nostra Alice cioè la nostra curious come la vogliamo chiamare io la chiamerò Alice glitter glitter elis la chiamerò mamma quanto è bella già solo così no vabbè non ho parole ragazzi non ho parole aiuto questa è la è la destra tamarinda e qua sarà a sinistra oh mio dio no ragazzi io certo che la destra ti sta un po' stretta però ti sta no ragazzi ma quanto è bella cioè io no words no words allora mamma guardate no vabbè no veramente fabulous fabulous ho fatto bene a portarmi i curious guardate la differenza allora niente da togliere alla nostra versione per carità originale della seconda serie però la versione glitter ha anche lei del suo mica da ridere cioè io ragazzi non ho parole avrei preferito questo qui di fiocco lo di la verità mi piace molto di più questo qui che va tipo recchie da gatto mi piace molto di più però non gli diciamo niente perché ci piace pure lei assolutamente sono felicissima ragazzi sono stata troppo 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 fortunata ed è sono meravigliose io guarda scusami curioso aspetta che sta a venire via cerchietto glielo rimettiamo eccoci scusami se ti lascio un attimo da parte ma cosa cioè cosa vogliamo dire allora se vogliamo parlarne un attimo cioè ragazzi io sono stata troppo fortunata è vero sono stata fortunata perché a parte coconut due cioè due su tre direi adesso me ne devono arrivare ancora altre tre di bolle non so quando mi arriveranno le ho prese tramite internet speriamo mi arrivino presto perché mi piacciono tantissimo tantissimo va bene ragazzi io con la mia sugar e con la mia glitter elis vi salutiamo e alla prossima ciao